A Battipaglia si litiga per come dividere gli scrutatori tra chi preferisce il sorteggio alla nomina diretta. I consiglieri comunali si dividono e la sindaca apre le porte della commissione elettorale ai cittadini con un sondaggio sui social. Centinaia di battipagliesi chiedono allora il sorteggio. Durante la prima riunione della commissione consigliare, presieduta da Cecilia Francese, e composta da Pino Bovi, Antonio Sagarese e Renato Vicinanza, la sindaca e il capogruppo di Concecilia hanno votato per il sorteggio, mentre Sagarese e Vicinanza hanno dichiarato che preferiscono la nomina. Per poter scegliere una delle due ci vorrebbe l'unanimità, che al momento però non c'è. Su Facebook intanto nel gruppo 6 di Battipaglia il vero Vincenzo Nobile ha lanciato il sondaggio, più di 200 quelli a favore del sorteggio, 23 i contrari. Prevista oggi alle 15 al Comune la commissione elettorale a porte aperte, convocata dalla Sindaca.